Radio Roma Capitale informazioni sulla città sul sito di Roma Capitale alle pagine del Dipartimento Risorse Economiche Si tiene dal 16 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica il Festival Internazionale del Film di Roma Info e biglietti su romacinemafest.it Infine scade il 15 ottobre il premio giornalistico 38 volte basta indetto dall'Associazione Antea per promuovere la cultura delle cure palliative e la terapia del dolore Grazie a tutti